Voglio fare chiarezza su una questione importante che coinvolge circa 500.000 lavoratori. Il bonus di 600 euro per i professionisti iscritti alle casse di previdenza privata, che l'hanno già percepito a marzo, verrà erogato anche per i mesi di aprile e maggio. Lo ha precisato su Facebook la Ministra del Lavoro, Nunzia Catalfo. L'articolo 44 del Decreto Cura Italia conteneva, infatti, anche le risorse per le indennità di lavoratori stagionali, intermittenti, prestatori d'opera, lavoratori porta a porta, che nel Decreto Rilancio sono stati inseriti in un'altra norma, articolo 78. Nei prossimi giorni emanerò il decreto interministeriale che assegnerà alle casse le risorse necessarie. Stiamo lavorando con impegno per garantire sostegno e tutele alle categorie più colpite dall'emergenza coronavirus, ha assicurato Catalfo.